buongiorno a tutti ragazzi oggi vi voglio parlare di questo prodotto che sto usando creatina della pantenna ovviamente è una maschera per capelli tu fai va bene lavimi normalmente i capelli come metti questo prodotto lo tieni per 5-10 minuti e lo risciacqui faccio vedere un attimo la consistenza profuma tantissimo e il capelli vengono morbidi e dura molto di più la piega come ripare vedete come stanno i miei capelli così e tra 5-10 minuti vedete il risultato ecco il risultato creatina comprata dalla pantenna al supermercato senza che dovete spendere soldi a paul chi che dia ottimo prodotto vero consiglio a usare grazie grazie grazie